Grazie. 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 Guarda dentro. Grazie. 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 Super. È una bella linea, c'entra, prendila un po' più lunga la linea. Vai largo. Ok. La linea è bene e convinso. Vai. Yeah. Super. Bravo. Squadra bene, aspetta e fuori. Yeah. Go. Go. Yeah. Yeah. Super. Yeah. Abra bene, aspetta e fuori. Abra bene, aspetta e fuori. Go. Go. Yeah. 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 Super. Uhuh. Abra bene, aspetta e fuori. Allora. Sì, 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 Sì. Sì, Sì.